... Quindi, è tutto pronto. Partiti i quattro protagonisti del premio Levi. Arab Gold, adesso viene sopravvanzato da Domestic Earth, che diventa il leader del gruppetto, quindi secondo in corda Arab Gold, terzo percorsi interne Port of Lake, con ai fianchi monto della sfida. I cavalli che vanno verso l'ultima parte della prima piegata, con Domestic Earth, che pone un buon ritmo alla gara e cerca di guadagnare nei confronti di Arab Gold, che si mantiene in seconda posizione. Quindi, terzo Port of Lake, dal largo e chiude il gruppetto a contatto monte della sfida. Di buona lena, Domestic Earth, che continua a capeggiare il gruppetto ed avere un buon margine nei confronti degli inseguitori, che comunque provano a recuperare il gap. Arab Gold rimane in seconda posizione, si avvicina minaccioso, quindi a Domestic Earth in terza posizione, rimane Port of Lake, a contatto. Adesso è dal largo che viene bene a progredire. Monte della sfida, si affronta la metà della piegata di fondo, con Domestic Earth, che mantiene l'iniziativa nei confronti di Arab Gold, quindi a largo Monte della sfida. Va in ultima posizione, Port of Lake, cavalli che affrontano così la retta di arrivo dal centro della pista, Domestic Earth, che continua ancora a guadagnare. Ci prova Arab Gold sotto frusta anche Port of Lake, invece appesantisce l'azione Monte della sfida. Siamo ancora a traguardo lontano con Domestic Earth, che è in fuga. C'è spazio soltanto per la migliore piazza con Port of Lake, quindi che è la meglio in questo momento nei confronti di Arab Gold. Oggi si va nella fase conclusiva con Domestic Earth, che ha fatto tutto molto bene e ritorna al successo in maniera assolutamente evidente. Domestic Earth, quindi al bersaglio nei confronti del numero 4, Port of Lake, al terzo e il numero 1, Arab Gold. Al quarto, il numero 3, Monte della sfida. Nel premio Pirandello. Partiti. C'è Pagar per la leadership con Nicholson, che è in guerra con Black Magic Woman. Lungo lo steccato muove Orange Cake, quindi Summer Events, Bright Fountain in scia. Al largo c'è Run Grey Queen, chiude Miss Samo. Cavalli che vanno verso l'imbocco della piegata con Nicholson in leggere evidenza nei confronti di Orange Cake, che comunque non la perde di vista. Quindi a largo c'è Black Magic Woman, all'esterno ancora Summer Events per corsie interne. Muove Miss Samo che cerca di guadagnare, quindi Run Grey Queen. Gruppo che affronta la retta di arrivo dal centro della pista. Miss Samo che cerca di accelerare, ma è sotto la seria minaccia di Nicholson. Quindi Run Grey Queen sotto frusta. A largo prova a progredire anche Summer Events. Siamo a metà della retta di arrivo con Nicholson che cerca di allungare. Ci prova Miss Samo, quindi ancora sotto frusta Run Grey Queen. Siamo nella fase finale con Nicholson che ruba il tempo a tutti e viene a risolvere questo premio pirandello nei confronti di Run Grey Queen. Partiti Cavalli del premio Manzoni Prima fase di gara che vede Special Rush emergere dal gruppo in seconda posizione, cioè Capellone, terza ai suoi fianchi galoppa True Twister, per corsie interne filtrai Emma Rock lungo la corda, cioè Star of Well, che ha in scia Magic Timing, mentre al suo esterno galoppa in Pedocle. Si completa così la prima parte di gara, si affronta la metà della prima piegata con Special Rush, che detta il ritmo. Si mantiene in prima posizione, secondo in corda, rimane Capellone, si adegua in terza posizione, True Twister, quindi ancora Star of Well, per corsie interne c'è Emma Rock, con a largo e in pedocle chiude il gruppo Magic Timing. Cavalli sempre capeggiati da Special Rush, che vanno ad affrontare l'ultima parte della retta opposta, con Special Rush, che continua da leader nei confronti di Capellone, richiesto da Antonino Cannella. Quindi in terza posizione rimane True Twister, adesso avanza molto bene lungo la corda Magic Timing, che quindi recupera dalle retrovie, Star of Well, che perde qualche posizione, a largo c'è sempre l'avanzata di Empedocle. Quindi gruppo che completa anche la seconda piegata e affronta la retta di arrivo con Special Rush, che tenta di accelerare dal centro della pista, ma è sotto la seria minaccia di Magic Timing, quindi sotto frusta anche Star of Well, ancora ci prova da largo Empedocle. Siamo a metà della retta di arrivo con un Magic Timing attaccato a fondo da Special Rush, quindi True Twister, che trova un ottimo varco, passa True Twister nella fase finale, True Twister, True Twister nei confronti di Star of Well, quindi Special Rush. Un bellissimo arrivo con 4 cavalli in lotta, ecco rivediamo le immagini riproposte dalla nostra regia, 4 cavalli in lotta, con True Twister che alla fine riesce ad avere la meglio, battendo quindi Star of Well e Special Rush, che giungono vicinissimi sul traguardo. E si va a completare lo schieramento, partiti i cavalli del premio Foscolo. Riviera Knight, aspettatemi a viaggiare in prima linea, Mokalov terza in corda, Sopram che filtra percorsi interne. Lungo lo steccato c'è Stower, quindi ceffone a largo Mexico Point, chiude Tower of Texas. Aspettatemi, passa definitivamente al comando nei confronti di Riviera Knight, terza in corda la guira, percorsi interne rimane Sopram con a largo Mokalov. Cerca di guadagnare dall'interno, percorsi interne Mexico Point, a largo c'è Tower of Texas con all'interno ceffone. Si affronta la piegata con Aspettatemi, ancora con una lunghezza di vantaggio, un paio di lunghezze di vantaggio, nei confronti di la guira che rimane in corda, a largo c'è sempre Riviera Knight, quindi quarto percorsi interne Sopram, con Mokalov che viaggia dall'esterno in scia a Tower of Texas, ceffone Mexico Point. Cavalli che affrontano così la retta di arrivo con Aspettatemi, che appesantisce l'azione lungo la corda dal centro della pista, cerca di approfittare la guira, quindi Sopram chiamata a maggiore impegno, ancora prova a farsi sotto anche Mokalov, quindi ceffone sotto frusta da largo, Mexico Point che prova a cercare un varco, siamo a metà della retta di arrivo con Sopram che è passato in vantaggio, si fa sotto Mexico Point, ci prova ancora Mokalov, quindi la guira e ceffone. Nel finale Sopram che viene a vincere nei confronti di Mokalov e Mexico Point, in linea sul traguardo, quindi ceffone. Successo per Sopram, quindi Sopram quota ghiotta, Sopram, vediamo le ultime battute, Sopram che sbuca dal centro della pista e viene a vincere nei confronti di Mexico Point e Mokalov. che viene a completare lo schieramento, partiti i cavalli dell'ultima prova del Mediterraneo. Dilo al sopravvanza Secret Tour e quindi si pone al comando in terza Kemet Chu, quindi San Blas, ancora Complimentor che viaggia dall'esterno e all'interno Swallow Street. Si affronta la piegata con Dilo al alle prese, sempre con Secret Tour minacciosa al suo interno, rimane quindi in terza Kemet Chu, cerca di avanzare e guadagnare dal centro Swallow Street, quindi San Blas, Complimentor che chiude, si completa la piegata, cavalli che affrontano la retta di arrivo con Secret Tour in leggere evidenza per linee interne, ma sotto la minaccia di Kemet Chu che prova ad accelerare dal centro della pista sotto Frusta Dilo all'allargo, c'è la progressione di Swallow Street, siamo ancora a traguardo lontano con tre cavalli in lotta, Secret Tour ingaggia un duello con Kemet Chu, all'argo viene molto bene Swallow Street, tre cavalli in linea quando siamo ai 100 dal traguardo, Secret Tour che deve respingere Swallow Street ed è Secret Tour che ritorna al successo, dice di no a Swallow Street. Per il terzo, Kemet Chu, un arrivo combattuto che vede alla fine prevalere Secret Tour, un tre cavalli in lotta fino a 100 metri dal traguardo dall'interno Secret Tour, quindi a largo c'è Swallow Street e tra i due si inserisce Kemet Chu, ma Federico Bossa sigla la tripletta in giornata.